Finiamo con Natan Lelli, nonostante c'è una sorpresa per dopo, lo promesso a Giuseppe e devo mantenere. Natan Lelli, cazzatan, come dice il mio amico Matri Stubbip. Di conseguenza, questa volta non ci sono più tragedie familiari, mi dispiace se veramente ti si siano accorse, ma io penso che ormai sui vetri state scivolando come dei gatti, senza neanche più gli artigli. Uno dei tuoi team commando professava 18 kg, non so quanti mesi, con solamente sodio e potassio. Vabbè, ma che ormai le persone prendono per il culo il resto del mondo, che si fa prendere il culo? Va bene, non si deve piangere se il team commando è stato prima perculato e poi inculato da tutti quanti. Fede d'ossi, tutti delle merdi, guardo loro l'olio. E poi uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Cose tecniche sull'alimentazione di Natan Lelli, che non ha bisogno che ha le Lelli Kelly. E se non, come dice lui, un secco è a ragione, poi quando fai uso di quelle cose, al mio occhio si vede subito perché diventi un pelino di più, è più tirato, perché tu sei il casco secco non venoso. Le carni, le carni, diciamo, come i buster immacinati, la scottona, è un gran miraggio. La proteina, io ho fatto analizzare, la tua sarà sicuramente fantastica. Tante marche che ho fatto analizzare io e di alcuni miei amici fanno evincere che dentro c'è proprio eteine di altre cose, c'è glicerolo, alcune si attaccano, sono troppo, diciamo, collose. E questo è un altro indizio che non va bene, alcuni fanno grumi, questi sono indizi di quello che c'è dentro. Insomma, sui 100 grammi ce n'è un quinto probabilmente, per cui io predico il pasto solido madame, prima di aver scoperto queste cose. Tutto prozis, con maglietta prozis, si vende prozis perché ormai l'acqua nella barca, il team command è arrivata fino a qua, di conseguenza. Non sappiamo più come cazzo fare a uscire, le figure di merda le abbiamo fatte in avalanga, prima di andare a dormire con questo pasto di proteine, a mio avviso non ne hai fatto nessun pasto. 250 grammi di carburati al giorno lo puoi fare solo te, che pesi 20 grammi, devi tenere i sassi in tasca, si sa mai che tira il vento troppo forte. 30 grammi di olio, mezzega, gli amminoacidi dopo lo sforzo, avrei da obiettare ma te la lascio passare. Il vitargo durante, cazzo ragazzi quello è il glucosio, è il glucosio che si usa solamente in determinate preparazioni con degli steroidi molto potenti. Via dal glucosio, occupati di chi ha anche le patologie, questa tua dieta è inapplicabile se non solamente a te e poi è tutta una vendita. Chiaramente si cerca di fare quello che si può, ma ormai la frutta è arrivata, come diceva il vecchio Corrado, signora lei mangia la cioccolata, al pranzo servito alla fine c'era la frutta.